è un long sul bund ed è strettamente legato alla bc e mani 131 a questo punto cambio sul file indiretta metto e 07 come entrata con stop a 130 e 57 e target a 131 e 57 così siamo già entrati anche perché in questo momento siamo addirittura a 06 quindi un tic di perdita in questo momento sulla posizione anzi bid 131 e 05 specifico che sono prezzi del future settembre sono prezzi del future settembre perché perché domani scade il future giugno sembra fatto apposta lo stesso giorno che c'è la riunione di politica monetaria della bc e quindi due diciamo dati estremamente market mover su questo sottostante in contemporanea arrivano praticamente nello stesso momento perché long bund perché in generale l'obbligazionario sta già salendo da qualche giorno e secondo me continuerà salire domani dopo che appunto la guarda taglierà il costo del denaro di un quarto di punto quindi teoricamente i rendimenti dovrebbero scendere e di conseguenza i prezzi dell'obbligazionario dovrebbero salire guarda cosa ha fatto il bund se possiamo rimanere su questo grafico direi che parla da solo alla fine dell'anno scorso c'è stato quel salitone che l'obbligazionario ha fatto perché si pensava che arrivassero dei tagli dei tassi abbondanti corposi veloci nei mesi successivi che non sono arrivati e proprio perché non arrivavano piano 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 siamo tornati indietro quasi al punto di partenza il bund ha iniziato quella salita ottobre a 127 a rotondo è e poco fa siamo arrivati a 128 50 quasi pochi pochi giorni fa una settimana fa quindi ci siamo rimangiati tutto anche sul rendimento era salito non so di un punto percentuale mi ricordo adesso non voglio dire numeri che non ricordo bene a memoria comunque ci siamo rimangiati tutto quanto è ora di ripartire secondo me è ora di ripartire e si ripartirà di più 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 oddio è più probabile che si riparta e tanto più la guard non solo taglierà il posto del denaro domani ma dirà come appunto anticipavo prima o meglio spero che dica domani che è solo l'inizio di un percorso più lungo cioè solo il primo di tanti tagli che arriveranno a quel punto l'obbligazionario potrà finalmente risalire in maniera molto decisa verso verso l'alto grazie Grazie a tutti.